L'Università di Torino è molto interessata a partecipare a un progetto come questo per diverse ragioni. In primo luogo per le sue attività istituzionali di ricerca e formazione sugli ambiti della green economy e dell'economia circolare, su cui svolgiamo attività di ricerca e attività di formazione con insegnamenti e anche corsi laurea specifici e abbiamo appena fatto da poco partire un dottorato proprio in circolare economy. Infine c'è un'attività che riguarda la cosiddetta terza missione dell'Università. L'Università di Torino da più di un anno ha avviato un percorso esplicito di sostenibilità ambientale applicata all'Università in quanto tale. Quindi l'Università intesa come organizzazione, come comunità, che coinvolge oltre 75.000 persone, tra studenti, personale tecnico-amministrativo e docente. Abbiamo fatto partire un green office dell'Università di Torino e quindi in questo senso l'Università è di per sé un'organizzazione che sta cercando di diventare più verde, un'organizzazione complessa, articolata, con molti centri, dipartimenti. Già nella sola localizzazione l'Università di Torino ha oltre 120 sedi, di cui oltre 100 nella solo Torino. Quindi già solo ognuna di queste sedi presenta problematiche dal punto di vista di una maggiore sostenibilità ambientale che sono importanti da affrontare. In questo senso l'Università si offre con tutto il supporto per quanto riguarda le attività di ricerca e di formazione e di per sé come laboratorio di sperimentazioni di buone pratiche.